La gestione del disturbo tra clinica didattica e prospettive normative. Questo è il tema scelto per l'incontro organizzato all'Istituto Cuoco di Sernia in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia. Il convegno, rivolto in particolare ai genitori e ai docenti, è stato promosso non solo per abbattere luoghi comuni e false convinzioni, ma anche e soprattutto per dare, attraverso le famiglie e il mondo della scuola, risposte efficaci ai bambini. La missione dell'Associazione Italiana di Dislessia è proprio questa, ha ricordato la Presidente della sezione di Campobasso, Donatella Palmieri. La missione dell'Associazione Italiana di Dislessia è proprio quella di sensibilizzare l'opinione comune, anche il mondo della scuola e i servizi sanitari, di potenziare la formazione nelle scuole, principalmente nelle scuole, e offrire proprio un punto di riferimento per i genitori, gli insegnanti, ma anche i ragazzi stessi. Quale consiglio date ai genitori e agli insegnanti? Ovviamente quello di non sentirsi assolutamente soli, di potersi rivolgere all'Associazione, in quanto condividiamo proprio le esperienze e ovviamente di segnalare il prima possibile queste difficoltà. Le scuole sono molto molto collaborative ed è stato attuato anche l'anno scorso e quest'anno verranno riattivati gli sportelli d'ascolto che sono aperti a genitori, insegnanti, agli alunni stessi, quindi è un progetto che riattiveremo a breve. Per Angela Di Burra, nella doppia veste di insegnante e psicologa, la dislessia va affrontata sin da subito, e cioè a partire dalla scuola dell'infanzia. Sicuramente la cosa più importante è poter avviare dei percorsi di osservazione già dalla scuola dell'infanzia e con dei laboratori di potenziamento per attivare tutte quelle che sono le potenzialità dei bambini e consentire un passaggio sereno nella scuola primaria. Si lavora sui precursori dell'apprendimento, quindi la memoria, l'attenzione, l'orientamento, le prassie, ma anche abilità più specifiche come quelle della lettoscrittura e del calcolo. Sono tutte abilità che vanno avviate per tempo e che riguardano un po' tutti i bambini. Certamente ne beneficiano i bambini con difficoltà. Grazie. Grazie.